Tutto da rifare. Il campionato 2020-2021 in A1 femminile della Bartoccini Fortinfissi Perugia inizia con un passo falso casalingo. La squadra Umbra, completamente rinnovata rispetto alla passata stagione, deve arrendersi in 3-7 al cospetto della reale mutua Fenera Chieri, una compagine già collaudata che nel match del Palabartron ha messo in atto una prestazione magistrale. Il tecnico Bovari è orfano del libero cecchetto rilevata da rumori e nel primo set Chieri scappa avanti ma Perugia non molla e si riporta a meno 2 sul 10-12 grazie al muro. La Fenera riallunga sull'11-16 e mantiene il vantaggio sul 15-22. Bartoccini Fortinfissi è un sussulto e risale fino al 21-24 costringendo Croce Bregoli a chiamare time out. A rientro in campo il servizio lungo di Casillo consegna il set sul 22-25 alla reale mutua. Groberna e Villani danno il doppio vantaggio alle piemontesi in avvio di secondo set. Casillo accorcia ma le ospiti continuano a comandare e sul 6-11 Bovari ferma il gioco. La Bartoccini risale sul 10-14 ma è un fuoco fatuo. Chieri allunga fino al 16-22 che diviene 18-25. Il primo punto di Perugia nel terzo set è opera di Abelkova poi con Albrecht le Umbre vanno sul 19. Chieri scavi il più 5 sul 12-17 che diviene in un amene 14-21 con Bovari che ferma di nuovo il gioco. Bartoccini risale sul 18-23 con Casillo e un errore di Franti e sul 20-24 con Angeloni prima che Groberna chiude il set sul 20-25 oltre che la partita in un secco 3-0. Le magliette nere sono chiamate ad analizzare gli errori per rialzare con celerità la testa in vista della trasferta di domenica prossima a Scandicci, reduce dal successo al Taiprec a Bergamo, occasione in cui Coach Bovari potrà inserire anche l'ultima arrivata a Carcasses con la speranza di recuperare Cecchetto per aumentare la qualità in ricezione.